La prima cosa Che cos'è questa foto? Sono io davanti al mare alla mottosa Quando sei lì, solo vivo, in un posto che dove sei stato, ti vengono a mente tutti e tutti le cose, no? Invece qua, difficili. Cioè, non volevo più raccordare quel momento lì. Cioè, non mi viene in mente tante cose da quel momento lì. Ma lo vuoi fare? Sì, lo... Sono spariti. Mi ricordo se sono spariti. Facciamo così allora. Noi ora siamo qua. Da qui in poi non c'è più ricordo. Che cosa succede a questo disegno quando non c'è più ricordo? Non volevo fare un'immagine pronta. Alla fine sono sopravvissuto. E anche ho vissuto momenti che erano più difficili nella mia vita. qui in me. Questi... sono i genitori che piangono. Avevo un figlio. In mezzo a mare. Club ferto. Era sopravvi... È tutto. Oscar. Grazie a tutti